5 novembre 1559, muore Kano Motonobu, maestro della pittura giapponese. Dotato di precoce talento, già a dieci anni si dedicava a ricerche estetiche studiando la natura. Artista versatile eccelleva nei paesaggi, nelle figure e nelle immagini di fiori e uccelli. Dipinse anche cicli di leggende legate a sapienti buddisti. Quando divenne il genero di Tosa Mitsunobu, fondatore di una scuola specializzata nello stile nativo detto Yamato E, creò una nuova bellezza decorativa, espressiva e calligrafica insieme, particolarmente adatta per le grandi composizioni Il nuovo stile, presto diffuso con suo nome Kano, influenzò la pittura giapponese per i due secoli successivi. Alcune sue opere sono conservate al British Museum di Londra. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!